Musica Potente appara ragazzi, qua Vax, lo giugno in grado, oggi sono Nassol e come vedete sono senza facecam perchè infatti oggi 21 maggio del 2014 sono qui a presentarvi un nuovo pack opening ma perchè? perchè è uscito un nuovo team of the season che ha un qualcosa di magico ragazzi quanto Ming è forte, come possiamo vedere vanno praticamente quasi tutti sopra il 90 e poi ci sono Filippo e Luis che è una bestia, Godin, Juanfran e Courtois appunto hanno valutazione inferiore al 90 ma per il resto abbiamo Cristiano Ronaldo valutato il 97, Di Maria valutato il 91, Messi il 97, Diego Costa il 90 Modric che mi fa esaltare un maciello quando gioca che ha 90 e poi Gareth Bale 93, poi non ho ancora visto la panchina ma c'è Griezmann, Tanta, Robert e quindi niente, allora volevo un attimo dirvi un paio di cose in questi giorni sono un po' meno attivo in generale per rispondere a come ci sono quasi da Facebook perchè sto studiando un maciello, sto studiando tipo 5 ore al giorno quindi non ho veramente tempo di fare niente, anche mi scuso perchè magari non so neanche se caricherò questo video mercoledì o giovedì se non lo carico mercoledì è perchè ovviamente mia madre si è messa a dire bisogna dire una cosa abbastanza poco tattica comunque andiamo ad aprire il primo paio che ha aperto intanto volevo un attimo ringraziarvi, guardo il computer perchè nell'ultimo video il Pink Pile abbia raggiunto in un giorno tipo spero 4.000 like, come ieri erano 3.900 e ora sono a 4.500 quindi siete fantastici questo primo pacchetto io non vedo, cosa andremo a trovare? No è no 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 no, un pacchetto così non mi piace, non mi piace se devo essere sincero comunque appunto vi stavo ringraziando per tutto il supporto che mi state dando adesso prima di fare quel famoso Pink Pile farò questo video poi un altro che è un po' specialino per poi andare al Pink Pile comunque appunto per parlare del Pink Pile ve ne parlerò tutte e ancora altri problemi ve ne parlerò nel prossimo video adesso noi abbiamo 9 pacchetti ancora ad aprire io sono carico, cioè non so, si sono carico sono carichissimo addirittura quindi ultima decisione da trovare anche perchè ormai senza facecam troviamo di tutto quindi, quindi, quindi lol chiudiamo gli occhi e passiamo lo sguardo chiudiamo gli occhi e passiamo lo sguardo non saltiamo, mi raccomando strisciamo perchè poi troviamo Polarov no eh, eh no eh con un altro pacchetto noi, altri problemi dicevo, noi non demordiamo e andiamo ad aprire un altro pacchetto ragazzi, come nell'altro video vi chiedo di mettermi in piaccia adesso mettetelo adesso e troverò qualcuno o meglio, troverò qualcuno durante il video un po' più probabile trovarlo adesso, ma se no anche dopo trank quindi, apriamo gli occhi no, sta andando di un male no eh cavolo, c'è qualcosa che non quadra c'è qualcosa che non cosa ragazzi, non va bene ho fatto ciò che si deve fare quando si porta sfortuna ve lo dirò si, non ho fatto niente è una cosa abbastanza viva sono uscito all'altro in team e adesso noi chiudiamo sempre i nostri bei occhi e aspettiamo che questo pacchetto si apra ragazzi, qua lo si trova alziamo lo sguardo no, The Young Mercoledì ragazzi, la nostra fortuna no, ancora problemi mi fanno finire una frase dicevo la nostra vi stavo dicendo che la nostra fortuna non può fermarsi perché non possiamo interrompere la striscia dei team of the season trovati in un pack opening quindi noi dovremo trovarlo anche qua chiudiamo gli occhi battete due o tre mani e troviamo ma che due palle dai 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 eh Dio santissimo barcoliamo ma non molliamo apriamone un altro ma per me se noi chiudessimo gli occhi sarebbe una cosa abbastanza data anzi no, mi giro direttamente anche se voi non potete vedermi ma no mascherano ma dai ma stiamo scherziamo non potevi farmi trovare un altro argentino del bar chiudiamo gli occhi non bisogna neanche più di quanti neanche dai qualcosa di buono e dai ho un altro del Real Madrid ma no ancora due pacchetti mio dio mio dio mio dio rischiamo di non trovare niente no ragazzi lasciate un bel mi piace ora ora io voglio un bel mi piace e andremo a vedere l'apertura di questo pacchetto la palla ti gira ma non è cira e troviamo e vrà no mi state dicendo che in questo pacchetto non ho trovato niente mi state forse dicendo questo oppure nell'ultimo pacchetto c'è una sorpresa no dai non può non esserci andiamo gli occhi apriamoli porca misera mi aspettavo una sorpresa come settimana scorsa e no e dai dai oppla e dai e oh parbelo un altro del Real Madrid mio dio 6.000 crediti gratis troppo gentili dai oh mamma mia oh mamma mia 3 io ci credo io ci credo la speranza è l'ultimissima a dormire a dormire si a morire e troviamo Terry boia li abbiamo trovati scartando dei giocatori e andiamo ad aprire l'ultimissimo pacchetto di questo bellissimo pacchetto devo dire eh si ultimo pacchetto schiacciamo a col naso via chiudiamo gli occhi ora schiacciamo un po' di volte ora lo lasciamo andare chiudiamo gli occhi l'ultimo pacchetto che può essere il decisivo il decisivo il fondamentale alziamoli no dai che palle e ragazzi non siamo stati fortunati come le altre volte mannaggia la salsiccia speravo di si che palle abbiamo grandi aspettative per questo pacchetto perché il team of the season nuovo era veramente speciale particolare era bellissimo comunque trunk aspettatevi domani credo già un nuovo video quel video sorpresa e invece che appunto in cui andrò a parlare del pink palle quindi ragazzi ma raggiungiamo i 4.000 mi piace anche in questo perché non ho trovato niente quindi dovete mostrare il vostro supporto quindi ragazzi detto questo io vi saluto e vi dico potente apala ci sento al prossimo video bolla vi saluto